Più di un'ora di dibattito per illustrare le ragioni e la necessità di un'Europa più forte e soprattutto più unita in modo da migliorare la vita dei territori e dei cittadini. E' il succo dell'incontro di ieri pomeriggio organizzato dall'officina del deputato Luciano D'Alfonso nella sala consigliare del comune di Pescara e che ha visto la presenza di alcuni sindaci del territorio e del presidente del Lanci e sindaco di Bari Antonio De Caro. Lo ascoltiamo insieme a D'Alfonso. Noi crediamo a un'Europa di prossimità, un'Europa che sappia ascoltare le specificità dei nostri territori e come è già accaduto con il periodo della pandemia e con le risorse del PNRR. E' un'Europa che si fa sentire più amica dei comuni, delle nostre comunità. Una bandiera, quella azzurra, con le 12 stelle dorate che sentiamo più nostra, più vicina a noi. Un'Europa che ci faccia guardare con più fiducia al futuro. Per noi non è un appuntamento elettorale, è un appuntamento con il futuro. Lo dobbiamo alle nostre comunità, lo dobbiamo ai nostri figli e per loro dobbiamo continuare a lottare per un'Europa unita, per un'Europa libera e lo dobbiamo fare tutti insieme. È un appuntamento per le prossime generazioni. Questo è un appuntamento che non sarà solitario. Lavoreremo sulla grande questione dell'Europa anche in vista dell'Europa, ma perché siamo interessati a dare il nostro contributo agli Stati Uniti d'Europa, ad una cittadinanza europea che va configurata, va coltivata e va riconosciuta. Oggi il cittadino europeo non esiste, c'è una cittadinanza derivata. Noi vogliamo che l'Europa aumenti di consistenza di bilancio, sia capace di intervenire in politica estera autorevolmente, sia capace di portare pace negli scenari di guerra, sia capace di fronteggiare le emergenze come la pandemia. Perché a volte noi abbiamo problemi più grandi degli Stati membri e serve una realtà più grande all'altezza dei problemi grandi che hanno attaccato gli Stati in azione. Grazie.